Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Charlotte Casiraghi sta affrontando un dolore enorme per via di suo figlio Raphael, i sudditi sono senza parole La donna non sa più cosa fare.La bella Charlotte Casiraghi ha ricevuto una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire Ha a che fare col suo adorato figlio Raphael La situazione è drammatica e tutto il Principato di Monaco è in pena per le sorti del piccolo La donna non ha titoli nobiliari, ma è comunque undicesima nella linea di successione al trono di Monaco Prima di lei ci sono i figli di Alberto II di Monaco, sua madre, il fratello Andrea e i suoi figli, il fratello Pierre e i suoi figli La figlia di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi non è mai stata un'amante dei riflettori, ma ora, suo malgrade, ci è finita sotto Si tratta di una vicenda molto delicata per la quale l'intero Principato sta incrociando le dita, facendo i migliori auguri alla donna Oggi Charlotte è felicemente sposata con Dimitri Rassam, produttore cinematografico, col quale ha avuto un figlio di nome Baltazar La donna si è rifatta una vita dopo la fine del suo precedente amore, e finora ha vissuto tranquilla All'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, è capitato un imprevisto davvero tremendo che sta mettendo in serie difficoltà Charlotte Charlotte Casiraghi, il dramma di una madre.Purtroppo Charlotte è al centro del gossip per una notizia molto triste che coinvolge il Principino Raphael Un dramma davvero assurdo che la donna non sa proprio come affrontare, è stata messa alle strette I sudditi si sono stretti intorno a lei dopo aver saputo che la donna rischia di perdere la battaglia per l'affidamento di suo figlio Il piccolo Raphael è nato dalla relazione tra Charlotte e Gadelmeila, caricaturista e comico originario del Marocco I due si sono fidanzati nel 2011 e nel 2015 hanno annunciato la fine del loro amore I rapporti sembravano essere piuttosto distesi, ma ora è successo qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato Il Mela vuole chiedere la custodia esclusiva del figlio visto che Charlotte non gli permette di vederlo quanto vorrebbe Gad sogna di poter trascorrere più tempo con suo figlio ha detto una fonte vicina all'uomo Se possibile senza le guardie del corpo imposte gli dà Charlotte Casiraghi La situazione è davvero delicata. Charlotte combatterà con tutte le sue forze per mantenere l'affidamento, ma anche il Mela è pronto a usare tutte le armi in suo possesso per riavere suo figlio Il povero Raphael è tra due fuochi.Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video